Chi va da Milano a Napoli e viceversa deve essere bloccato e sanzionato, così il presidente della regione Campania nel confronto con il collega della Lombardia da Bruno Vespa ricorda che la sua richiesta di limitare la mobilità tra le regioni di appartenenza non riguarda le merci ma le persone. Al collega Fontana ha precisato che bisogna usare la ragione per capire la specificità dei territori. In Campania abbiamo adottato misure rigorose perché la regione a maggior densità abitativa d'Italia è l'unica regione a sottugnato in cui non si può sbagliare se no c'è un'ecatombe. Dal canto suo Fontana ha precisato che quella di De Luca è una posizione insostenibile e comunque lo deciderà il governo nazionale. Questa è una malattia terribile, questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi, lo voglio dire perché nelle ultime settimane è andata crescendo una banalizzazione del problema che a me pare estremamente pericolosa aggiunto ancora De Luca. Probabilmente il virus è diventato meno aggressivo ma stiamo parlando di un problema di enorme gravità e serietà che va affrontato con grande rigore se vogliamo evitare tragedie per il nostro paese. Abbiamo avuto un momento di grande difficoltà ricorda il governatore della Campania quando mancavano i dispositivi di sicurezza individuale, mancavano i ventilatori polmonari e non arrivava più nulla da Roma. Sono d'accordo con Fontana che dobbiamo riaprire in tutta Italia ma non significa aprire ovunque nello stesso modo, dobbiamo perlomeno limitare la mobilità che oggi è limitata ai comuni e le regioni di appartenenza. De Luca ha sottugnato che quanto accaduto a inizio marzo quando si è determinato un problema serio per la Campania e per il Sud perché all'improvviso si sono riversati nei nostri territori decine di migliaia di giovani studenti e lavoratori che all'improvviso sono rientrati al Sud. Ora, concluso il governatore della Campania, l'obiettivo è evitare che succeda qualcosa del genere. Il rompete le righe significa liberi tutti di andare in giro per l'Italia dovunque e comunque questo sarebbe un atto di totale irresponsabilità.